Trasformare ogni commento e slogan vuoti, assecondare la sola logica di accumulo like. Mettere in secondo piano ciò che è vero rispetto a ciò che è utile. Sono atteggiamenti che porteranno alla perdita totale di credibilità di chi li compie. È una questione di tempo. Seguendo questo tracciato non sarà solamente il singolo politico a perdere credibilità, sarà tutta la politica e a seguire tutte le istituzioni. E se la politica perde forza, autorevolezza e credibilità, sarà sempre meno capace di ascoltare e dare risposte. E così di risolvere i problemi. Per questo spesso ripeto che oggi più che mai è necessario anteporre alla parola comunicazione la parola etica. Significa porre maggiore attenzione al linguaggio che usiamo, il linguaggio nelle piazze fisiche, il linguaggio nelle piazze virtuali, il linguaggio in Parlamento. È una questione di rispetto nei confronti dell'altro, base del nostro vivere civile. Una questione che si amplifica nel caso della politica e di chi ricopre incarichi pubblici.